Ci sono un collaboratore di giustizia collegato a Cosa Nostra e un sotto capo della Capitaneria di Porto di Pesero fra i 45 indagati nell'operazione denominata Damasco con cui i carabinieri di Fanno e Ancona hanno sgominato un'associazione per delinquere che spacciava cocaina, hashish e marijuana nelle marche. 13 le persone arrestate, 10 su ordine di custodia cautelare in carcere e 3 in flagranza di reato fra cui il sotto capo della Capitaneria Pesarese, 38enne di origini siciliane che deteneva una pistola serba calibro 6,35 con la matricola Brasa. Con il blitz dei carabinieri è stata disarticolata una pericolosa organizzazione che avrebbe fatto capo a Salvatore Fontana, 46 anni con precedenti per droga e rapina originario di Villa Batti in provincia di Palermo ma da oltre 20 anni residente a Cupra Montana in provincia di Ancona. La banda importava droga dall'Olanda e la faceva arrivare da Napoli tramite un referente campano figlio di un detenuto rinchiuso nel carcere di Fossombrone. Per gestire lo spaccio Fontana si sarebbe servito per la zona di Ancona del fratello e del nipote, 43 e 22 anni mentre per il pesarese di un collaboratore di giustizia legato alla mafia catanese, un 32enne residente a Fano. Proprio dalla sorveglianza di quest'uomo hanno preso avvio le indagini cominciate a settembre del 2014 in tutto sono 11-10 italiani, tra cui una donna e un albanese, le persone accusate di associazioni per delinquere finalizzate al traffico di droga. L'organizzazione non si faceva scrupolo di commettere altri reati per recuperare crediti per partite di droga non pagate come l'incegno delle auto dei loro debitori o l'aggressione nei loro confronti con minacce e violenze. Tra i reati contestati al presunto capo della gang c'è anche l'intestazione fittizia di beni a familiari e a terzi. Oggi 140 militari entrati in azione con il supporto di unità cinofile hanno perquisito 35 abitazioni e recuperato quasi 3 chili di hashish.